Devolvi il tuo 5x1000 alla protezione civile La Fontana di Acquarica del Capo. Ci aiuterai a difendere le nostre campagne e le nostre pinete da incendi, a contrastare chi in maniera criminale provoca incendi e deturpa il nostro ambiente, causando distruzione di piante secolari, pinete naturali, dove trovano riparo anche animali a volte anche rari. Devolvere il 5x1000 è facile e veloce. Basta una firma. Compila il tuo modulo di certificazione unica, 730 o modulo unico. Nella scheda scelta per la destinazione del 5x1000 dell'IRPEF, cerchi a riquadro, sostegno per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Metti la tua firma e inserisci nello spazio Codice Fiscale Beneficiario. Il Codice Fiscale della Protezione Civile della Fontana è il 900 228 20 758. 900 228 20 758. Insieme, le nostre forze contro i crimini ambientali saranno più forti e più efficaci.